Scontro tra i consiglieri regionali di azione e l'assessore alla sanità Rocco Palese sui dati riguardanti gli screening per i tumori alla mammella, al colon e alla cervice uterina. Polemica fuori luogo e non fondata, secondo l'assessore Palese, che ha definito i toni usati dai consiglieri di azione offensivi della professionalità, dell'impegno e dei molti sacrifici che gli operatori sanitari, le direzioni aziendali e la regione stanno mettendo in atto, nonostante le carenze di organico e i vincoli imposti dal piano operativo e del piano di rientro cui è sottoposta la regione Puglia. Secondo Amati, Clemente e Mennea, sugli screening oncologici sono stati violati gli obiettivi assegnati dalla Giunta. Nel periodo gennaio-ottobre 2023, spiegano i consiglieri, la media regionale è del 75,30% per il tumore al seno, del 52,75% per il tumore al colon, dell'85,3% per il tumore alla cervice uterina. In buona sostanza, in totale, sono fuori dagli inviti 414.227 persone, a cui bisognerebbe aggiungere quelli nemmeno considerati dalle burocrazie sanitarie. Immediata la precisazione dell'assessore Palese, che ha sottolineato come i dati illustrati da azione si riferiscano fino al 30 ottobre, mentre gli obiettivi fissati dalla regione sono annuali, per cui i dati andrebbero verificati a fine anno. A oggi, secondo Palese, i dati parlano di una tendenza all'aumento degli screening mammografici del colon retto rispetto al 2022, dati in linea con lo scorso anno invece per gli screening della cervice uterina. Precisazione anche dell'Asle di Bari, che avallando le parole dell'assessore regionale, parla di false informazioni che danno una visione distorta della realtà a proposito dei dati forniti da azione.